carissimo fucile di precisione m21 e br mi pare di modern warfare 2 qui è johnny creek che ti saluta e ti vuole dire una cosa ora capisco perché cazzo non ti ho mai usato ma quanti tmarker si prendono con sto fucile fratelli cioè l'unico modo per uccidere un colpo e lo pigli in testa o lo pigli nel petone stranamente se lo prendi nel culo muore non ho mai capito come mai però modern warfare 2 ha i suoi dettagli poi vedremo nel 3 che sta per uscire comunque io devo dire che quest'arma qua non è bella perché c'è n'è bella potrebbe essere bella solamente che non capisco sembra diversa dall'interventione dal barrett poi non è che sembra diversa magari anche più forte magari è molto più scarsa io non è che voglio dire non mi metto lì a criticare però boh magari a me magari a connessione magari proprio perché è un'arma di merda o magari il giocatore più merda dell'arma non riuscivo proprio a killare con un colpo comunque questo qui è un normalissimo free for all fatto in una partita trovata online e mi pare che tra l'altro forse o arrivo secondo o terzo o primo buono non me lo ricordo sinceramente anche se questa mappa è una delle mappe proprio che io ragazzi scusatemi questa mappa qui potrà essere anche bella se tu sei il cecchino alla battlefield ma questa mappa qua in modern warfare 2 è troppo larga e quando cominciano a sparare i lanciapuffi da una parte all'altra e quando camperano vicino agli scatoloni o addirittura in quel posto lì dove c'è la rete alla sinistra del fucile lì veramente ragazzi diventa ingiocavile quando tu vedi tutta questa gente che sta lì sotto che sta lì sotto e non si muove non si muove comunque dovrei cominciare un attimo a dire una cosa innanzitutto vabbè allora devo dire un attimo una cosa importante dovrei riuscire a farmi prestare dead island ma volevo anche prendere gears of war 3 voi cosa ne dite certamente vi dico vi dico una cosa abbastanza schietta no fratelli vi dico che non ho mai provato nel 1 nel 2 come ben sapete perché non avevo la playstation non avevo la xbox ma avevo la playstation quindi boh vabbè magari io lo prendo mi guardo qualche riassunto oppure telefono al paoluzzo che lui di gears of war li ha giocati tutti li sa meglio della divina commedia come la sa roberto benigni lui la sa meglio gears of war lo sa meglio quindi magari vi faccio spiegare volevo prendere il 3 magari vedere un po com'è qualche provare proprio l'online di gears of war 3 perché secondo me è stupendo cioè dalle recensioni che si vedono secondo me spacca spacca bene cioè fatto veramente bene anche se dead island proprio con lo squartamento degli zoo guarda quello dimmi quello che cazzo faceva sdraiato lì ma ma io dico un po' di cognizione campera in questa mappa qua ci sono dei posti dove camperare penso neanche neanche odino ti vede cioè ti metti lì non ti vede nessuno comincia a sparare con il silenziatore a palla non ti vede nessuno perché muore e poi non ti ricordi dove sei ma lì cioè all'ingresso del tunnel sdraiato all'entrata come ho detto prima lì qual è il senso di di questo camperare poi magari vabbè lui si stava solo riposando era dato a prendere una un kinder pueno a nel frigorifero un pinder un pinder pueno nel frigorifero nello scaffale se gli piace caldo o freddo lì dipende ma ragazzo mio ma che cazzo era quella roba lì comunque in modern warfare 3 non ho capito se allora non ci dovrebbe essere seconda occasione però c'è un perk che tipo che dopo cinque kill dovrebbe farti fare una specie di secondo occasione non l'ho capito quindi se qualcuno di voi ne sa qualcosa me lo dica perché non ci ho capito una pippa animale fratelli veramente speriamo che sto gioco qua rispecchi le aspettative magari un po' un po più alla lettera di black ops anche se black ops non era male comunque c'è non è un gioco malvagio ai suoi pro i suoi contro modo vaffa 2 il 3 saranno molto più arcade anti black ops erano come dico sempre a lei con un po più stile battlefield c'è un po più stile calmo diciamo ma non cam c'è andante no mentre modo vaffa 3 tipo fifa c'è modo vaffa 2 3 sarà tipo fifa e mentre pes e tripo battlefield tipo battlefield è che può essere un paragone per controcazzi questo comunque veramente io questa roba qua continuerò a usarla in certe partite perché ragazzi è veramente divertentissimo tu sei lì che mi pam pam non prendi nessuno dici ma che cazzo è però non prendi nessuno già non muoio però c'è una bella arma da usare veramente magari se poi qualcuno mi aiuta vediamo ci provo a prendere anche la mimeticuzza autunno vediamo come sta con la mimetica autunno perché non è con la mimetica autunno ah beh ovviamente ragazzi non ci mettete il silenziatore perché se ci mettete il silenziatore fate prima andare dal tabaccaio sotto vi comprate un chupa chupa e sparate con quello perché cioè farei fate più danno con un chupa chupa alla coca cola ovviamente che costo a fucile qua questo fucile qua è buono se tu ti metti lì a camperarli più sdraiato e miri come una bestia mi sta telefonando a skype durante un commento maledetto ampetti adesso arrivo comunque poi vabbè ci sarà gente allucinante che riesce a usare sto coso cioè meglio dell'intervention però lì non ho capito ad esempio in questo pezzo qui che cos'è successo il primo colpo dove è andato che poi sembrava uno spermatozoo rosso che è partito no dove è andato io se non stessi registrando tornerai indietro a vedere perché veramente io lì ho detto ma che cazzo è successo vabbè ho sparato magari quello lì era il figlio di casper o il fratello di casper si è sminchiato il colpo non lo so oppure era tor qualun qualcosa sarà successo non l'ho capito cos'è successo lì comunque ripeto questo fine questo fine weekend stavo per dire maledetto martirio questo fine settimana dico vado a vedere allora se dovrei riuscire a farmi prestare dell'aiman e poi magari riesco a prendere Geos of War 3 vediamo un po' com'è perché veramente quel gioco lì mi attira un casino poi volevo dire che quel video di Lisi cioè fratelli non va a essere così perché io mi diverto un casino a editare ma Lisi è una grandissima amica cioè glielo ho anche detto fratelli cioè io edito perché mi diverto un casino se si può schiamare editing il mio comunque se non l'avete ancora visto passate giorni per vendetta perché alla fine cioè John X vendetta non lo ricordo neanche più perché alla fine è abbastanza avessi avuto una qualità video migliore vabbè però il filmino era quello l'ho preso dal dal commento che abbiamo fatto insieme quindi ah ricordatevi fratelli ricordatevi perché dobbiamo arrivare a 5.000 mi piace ci siamo qua siamo tipo a 3.600 1 boh a cazzo proprio non lo so comunque il commento vi sta per finire io sento l'acqua della pasta che bolle perché lo sto registrando mezzogiorno e mezza prima di andarmene e prima di mangiare quindi peace of love ragazzi la kill can spacca trova per questo drogheggiante a palla ricordatevi di fondere la parola iscrivetevi e veramente viva Venagodo e io vi amo tutti ragazzi veramente ciao grandissimi Johnny Creek